Negli scorsi giorni si è fatto un gran parlare della vicenda Linux Mint. Come voi di certo saprete, se avete letto il Marcos Box, ma anche se avete letto tutti quanti i vari siti di informazione del panorama GNU Linux italiani ed esteri, sabato scorso è successo un fattaccio. Un cracker, o un team di cracker in questo momento non è ancora certo se sia trattato di un'operazione solitaria o di più persone, sono riusciti ad entrare all'interno del sito internet di Linux Mint e bucarlo e modificare il link del download della versione Linux Mint 64-bit Cinnamon indirizzando il download verso una ISO contraffatta di Linux Mint, quindi non quella ufficiale ospitata sui server, ma una ISO contraffatta modificata con all'interno un malware che serviva per creare una specie di bootnet da quel che si è preso. Il team di Linux Mint si è subito accorto di questo fattaccio e ha provveduto a mettere offline il sito e avvisare tutti quanti gli utenti del problema. l'ha fatto pubblicando anche informazioni su come fare, su tutte quante le misure da intraprendere per mettere al sicuro i propri dati ed evitare di essere vittima di questa truffa. Il giorno dopo è successo un altro fattaccio, il giorno dopo è successo che il team di Linux Mint si è accorto che non soltanto il sito internet era stato vittima di attacco, ma anche il forum ufficiale internazionale di Linux Mint. si sono accorti che era stato fatto un dump della memoria con tutti quanti i dati degli utenti quindi con i dati degli utenti, i nomi utenti, le password, le mail e hanno subito, anche in questo caso, provveduto a avvisare gli utenti e chiedere immediatamente a loro di effettuare un cambio delle password. Un cambio delle password perché? Non un cambio delle password di per sé sul sito di Linux Mint ma un cambio delle password di tutti quanti i vari servizi connessi e associati a quella mail. Perché? Sapete benissimo che la madre dei cretini è sempre incinta e ci sono molti utenti che utilizzano la stessa password della mail anche per registrarsi sui forum, sui siti internet o magari utilizzano la stessa password per diversi siti e quindi avendo accesso al nome utente, avendo accesso alla mail avendo accesso decriptando poi il database con le password è facile poi andare a fregare i vari utenti perché i vari utenti disattenti che utilizzano una password unica dunque Team Linux Mint, come vi ho detto, si è attivato subito ha chiesto agli utenti di cambiare password e ha messo offline anche in questo caso il forum per cercare di arginare la faccenda e diciamo così prendere le dovute misure di sicurezza per risolvere il problema purtroppo da quel che è emerso questa misura presa in essere per quanto riguarda il forum è una misura tardiva è stata una misura tardiva perché? perché si è scoperto che questo gruppo di cracker aveva avuto accesso al forum già da un mese prima quindi ha potuto fare quel che gli pareva che cosa è accaduto subito dopo? subito dopo è accaduto che c'è stato un gran vociare all'interno della rete c'è stato un gran parlare da parte di editorialisti dei vari siti internet che si occupano di informatica e nel particolar modo dell'open source e molti di questi siti internet hanno messo in discussione la sicurezza della distribuzione l'hanno definito un progetto obbistico l'hanno definiti direttanti li hanno etichettati in tante maniere alcuni si sono spinti addirittura appunto a mettere in discussione la sicurezza di Linux Mint dicendo che non è una distribuzione sicura e menate varie qui però il fatto è ben diverso qui non si tratta di un attacco a Linux Mint che ha coinvolto appunto la distribuzione ha sfruttato qualche vulnerabilità in qualche codice, in qualche cosa della distribuzione qua si tratta di un attacco condotto per vie traverse un attacco che sfrutta l'ingegneria sociale certo hanno speculato sulla buona fede delle persone che recandosi sul sito di Linux Mint hanno scaricato la ISO pensando fosse sicura in realtà invece c'era stato un rediret quindi avevano scaricato una ISO non sicura hanno speculato sul fatto che la gente non controlla ad esempio il MD5 dei file dell'ISO che scarica nonostante per esempio sul sito di Linux Mint vengono sempre specificate vengono sempre specificati appunto per consentire agli utenti di essersi sicuri di aver scaricato in maniera corretta giusto i file dell'installazione della distribuzione ho visto che adesso anche altre distribuzioni iniziano a fornire il MD5 dei propri link mangiare l'altro giorno appunto hanno sfruttato questa sicurezza hanno sfruttato il fatto che Linux Mint è anche una distribuzione molto conosciuta e molto apprezzata da chi si avvicina per la prima volta al mondo Linux tant'è vero che tantissime persone me compreso la consigliano per tutti quanti gli utenti che si avvicinano al mondo Linux per la prima volta perché Linux Mint diciamo c'è una distribuzione che ha un look and feel che non lascia sparisato l'utente e ha una solida base RTS un ottimo supporto out of the box appena installata avete già tutti quanti i programmi necessari avete già eventuali codec potete già lavorare appena installate dovete installare pochissime cose se proprio volete completare l'installazione non so se avete visto ma anche i miei guide per completare l'installazione di Linux Mint consiglio giusto due o tre cose perché alla fine la distro è già bella infarcita di cose essenziali e utili ma è completa ed è anche una distribuzione sicura è basata sulla RTS di Cassetta Nonica è un sistema di aggiornamenti tramite Group Data Manager che propone gli aggiornamenti sicuri testati e ve li fa installare ve li notifica non se ne scappano non siete come su altre distribuzioni che non hanno questi strumenti di aggiornamento non siete voi a dover essere attenti ad aggiornare la distribuzione qui è il tool degli aggiornamenti che vi appare vi dice e devi scaricare gli aggiornamenti perché sono aggiornamenti di sicurezza di un programma di una componente o quant'altro appunto non è vero come alcuni stanno dicendo in questi giorni che è una distribuzione non sicura che è un progetto bistico e menate varie qui si tratta soltanto per così dire di aver non aver posto la giusta attenzione alla sicurezza per quanto riguarda i siti internet che sono stati bucati ma come ben sapete ogni giorno ci sono siti internet bucati anche più importanti siti internet bucati che vengono bucati sfruttando delle vulnerabilità in sita all'interno della piattaforma che riordina chi utilizza vulnerabilità di wordpress vulnerabilità di che ne so il sistema che gestisce i forum e quant'altro quindi non è un problema di sicurezza di news mint è un problema di sicurezza generale connesso appunto da tre cose a mio avviso ripetisco è sbagliato dare la coppa di news mint che non è una distribuzione attenta alla sicurezza e quant'altro è sbagliato fare questa stonanza perché così si fa un danno anche al mondo linux o a tutti quanti i vari progetti che sono presenti all'interno del mondo linux che sono gestiti in maniera diciamo così hobbistica come definiscono alcuni cioè che non hanno questa capacità di attirare fondi e tanzione e quant'altro ma sono progetti che nascono dal basso poi evolvono tutte le distribuzioni sono progetti hobbistici nascono dal basso e poi evolvono è un controsenso anche tutti i programmi open source sono progetti hobbistici che nascono con i progetti hobbistici la maggior parte dei casi e poi evolvono e diventano qualcos'altro quindi è sbagliato dire che linux mint è una distribuzione poco sicura sbagliato dire attaccare la sicurezza del mondo linux e quant'altro qui è un problema di altra natura un problema pure semplice hanno bucato dei siti internet l'unica colpa che si può dare al team di linux mint è stata che la vulnerabilità in wordpress non so se magari poteva essere evitata aggiornando regolament non so che cosa è successo quale vulnerabilità specifica è stata utilizzata piuttosto nel forum che come detto all'inizio era già stato bucato un mese prima diciamo così i cracker erano già avuti avuto modo di entrare un mese prima quindi non se ne sono accorti un mese fa se ne sono accorti dopo il fattaccio dell'iso quindi l'unica coppa che si può dare è questa che hanno passato poca attenzione alla sicurezza del forum sotto questo punto di vista al mio avviso fatemi sapere che cosa ne pensate voi lasciate un commento qui o magari sul sito internet di marcosbox www.marcosbox.org mi raccomando lunga vita e prosperità a tutti quanti ci vediamo al prossimo video di temi agosto ciao ciao